ciao raga bentornati sul mio canale youtube oggi ci andiamo ad analizzare insieme alla patch che è uscita ieri è stata una giornata di test offline da parte mia visto che continua il mio esilio forzato alla piattaforma viola che però dovrebbe durare altri due giorni quindi sabato dovremmo essere nuovamente online dita incrociate su questo durante durante le qualifiche quindi spero che insomma riesca ad arrivare a domenica in maniera tale da poterle condividere con voi ma oggi quindi vi dicevo ci andiamo a spendere un paio di parole sulla patch e in più andiamo anche a dare un rapido sguardo al albun runei del quale si è tanto parlato e sul quale mi avete fatto tante domande quindi ho preparato delle clip riguardanti in particolare il bridge palleggi che erano diciamo le cose che maggiormente ci ci interessavano e poi passiamo su food bin a guardare il buon il buon wayne quindi passiamo subito rapidamente sulla schermata e innanzitutto mi sento di dirvi che la sostanziale differenza con quella che è stata la patch precedente sui doppi passi è che in questo caso il bridge non è assolutamente diventato una skill inutile così come lo era invece poi il doppio passo dopo l'aggiornamento che c'è stato l'ultima volta di fatti come possiamo andare a vedere da queste immagini il bridge se fatto ancora praticamente con il giusto tempismo è comunque una skill molto molto efficace l'unica cosa che effettivamente cambia è il fatto che il difensore non fa più quell'animazione automatica rimanendo impalato e dunque non per dandovi la possibilità di poter andarlo a difendere quindi vediamo ad esempio questa questa prima situazione guardate io qui sono esattamente in situazione da bridge perché ho il giocatore alla mia destra quello che sta ovviamente difendendo e ce l'ho sull'esterno quindi io per poter prendere campo vado a eseguire il bridge e guardate quello che succede io faccio il bridge ma vedete il giocatore che sta difendendo sia cannavaro vedete che lui ha il cursore in testa quindi sta utilizzando quel quel giocatore lì non rimane impalato ma continua a traccare la mia corsa e infatti si ritrova in posizione perfetta poi per eventualmente andare a sottrarmi il pallone infatti qui se non avesse fatto questo contrasto ma avesse continuato a seguire la corsa mi avrebbe chiuso facilmente quindi qui come avete visto mi ha semplicemente dato un boost di velocità senza però fare quell'effetto game breaker di fifa street dei tempi d'oro che con la skill fatta il giocatore si si deve aver terra come se non potesse più recuperare il pallone andiamo avanti perché questa sarà una una clip di un minutino circa dove appunto sono analizzate tutte queste situazioni vedete ancora una volta come qui lui aveva già fatto il contrasto ma subito dopo aver fatto il bridge lui è nella disposizione di poter andare a utilizzare il giocatore il giocatore non rimane impalato qui è stessa cosa avete visto come io lo superi ma semplicemente perché sia il mio avversario a sbagliare il tempo del contrasto non perché effettivamente ci sia una meccanica che impedisce a lui di poterlo di poterlo controllare ancora guardate qui faccio il bridge il soprattutto il primo come possiamo andare a rivedere guardate il giocatore qui è perfettamente nel controllo del mio avversario io qua l'avevo superato poteva anche non farlo ma vedete come il giocatore non si impali continui la sua corsa normale poi aggiungeteci comunque che questo avversario abusava tanto del tasso del contrasto andando parecchio a vuoto ma comunque le situazioni vedete anche adesso sono le medesime io qui sono nuovamente in posizione di bridge con bruno fernandez mi ritrovo alla mia destra il suo mend quindi vado a fare il bridge ma vedete come lui subito dopo si rigiri per rincorrermi quindi il giocatore appunto è reattivo e non più statico dopo aver performato questa skill ancora una volta con bruno fernandez aspetto volutamente che commenti mi venga a chiudere vedete come il bridge mi faccia semplicemente avere un boost di velocità che non andandosi ad associare alla paralisi del difensore si traduce semplicemente in questo perché vedete che mendy è nuovamente attirata di contrasto infatti mi fa il contrasto e per un pelo non mi toglieva il pallone quindi vedete che su questo effettivamente yay sembra aver mantenuto fede alle alle promesse guardate qui ancora una volta con ronaldo cerco di andarmi a costruire il bridge eccolo che l'ho appena esatto costruito e vedete come ancora una volta è lui a sbagliare il tempo del contrasto e non il gioco a impedire di intervenire qui invece vi faccio vedere ancora un esempio pratico di come effettivamente se usato col tempo giusto il bridge e nella situazione giusta vi dà comunque il vantaggio che vi dava in precedenza qui ad esempio vedete che lui va a selezionarsi in area di rigore messi che non so perché si ritrovava lì onestamente io vado a eseguire il bridge vedete che lui non rimane fermo ma sbaglia a fare il contrasto per l'ennesima volta e io vado a calciare di sinistro andando dunque a finalizzare l'occasione altra situazione che voglio mostrarvi è quella relativa ai palleggi ok sapevamo tutti quanto fossero fastidiosi i palleggi soprattutto dopo il kick off con gli avversari che vi entrano in porta guardate qui io adesso inizio a palleggiare primo palleggio secondo palleggio terzo palleggio la palla si allontana praticamente di un metro forse anche qualcosina in più dai piedi della disponibilità del mio bruno fernandez rendendo praticamente inutile questa meccanica vedete qua bruno fernandez ha dovuto rincorrere il pallone prima di poterlo nuovamente riutilizzare stessa cosa primo palleggio secondo palleggio terzo palleggio guardate la palla quanto scappa dai piedi del mio giocatore di conseguenza risulta totalmente inutile l'abuso di questa di questa meccanica qui quindi dovremmo esserci tolti dalle scatole i palleggi mentre il bridge assolutamente rimane una skill molto molto viabile e che non sicuramente non è stata penalizzata così come è accaduto in precedenza per i doppi passi quindi questo per quanto riguarda la patch review con insomma conclusioni finali che fondamentalmente non è che sia cambiato questo granché è effettivamente cambiato quello che ci si aspettava e in più io vi dico questo era l'unico cambiamento che andava fatto per un pelo non vi ho stordito con una prontezza di riflessi mi sono anche mutato e dicevo è l'unico cambiamento che secondo me andava fatto a discapito invece dell'aggiornamento precedente che insomma va a toccare il doppio passo distruggendo senza una vera e propria necessità secondo me quindi ritorniamo invece sulla schermata di footbin come vi avevo promesso per andarci ad analizzare il buon runei ok carta che è uscita un paio di giorni fa e che insomma già guardarla così mi lascia qualche perplessità perché io leggo 430.000 credit di estimated sbc price che vuol dire tutto e vuol dire niente perché anche nel momento in cui voi dite sì ma io lo pago 100k ok ma per pagarlo 100k state mettendo in questo giocatore 300.000 credit di carte che avete nel club quindi io mi ci penserei un attimino due volte un'altra cosa che a me lascia molto perplesso di questo runei è il suo body type perché parliamo di un giocatore di un metro e 76 stocchi stocchi vuol dire esattamente paffuto basso e paffuto praticamente tozzo tarchiato e questo è un problema perché se poi ci vai anche ad abbinare questo 90 di forza questo 86 di agilità diventa praticamente nullo questo coso praticamente non si muove con i micro movimenti con l'analogico sinistro un ulteriore problema è che essendo un metro e 76 non va neanche così tanto via agli avversari perché in suoi movimenti rispetto a quelli di un difensore che è alto un metro e 90 praticamente saranno non dico la metà ma quasi poi per carità statistiche di finalizzazioni che sono sicuramente impeccabili anche le statistiche di passaggio sono tanta tanta roba come vi dicevo sicuramente reaction 95, controllo palla 94, 99 di freddezza sono tanta roba però non fatevi buttare fumo negli occhi da questo 86 di agilità oltre che un giocatore di 1,76 con 80 di equilibrio qualche problema dovrebbe farvelo porre perché insomma è un attimino un parametro anomalo poi ha anche 91 di aggressità 90 di stamina eccetera 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 ma onestamente io il buon runei lo vado a classificare esattamente in quella categoria di giocatori che non sono né carne né pesce che fanno bene un po' tutto ma non eccellono in nulla ok quindi io non metto minimamente in dubbio che qualcuno l'ha sbloccato e magari ci si sta trovando anche bene però onestamente visto il prezzo, visto il body type visto che comunque un 4-4 di un campionato come la FL Championship per cui neanche così linkabile a meno che non abbiate magari un Rashford o un Icona o cose di questo tipo arrivati ormai al 3 febbraio quindi non dico che un altro po' escono i Tots ma quasi onestamente secondo me sono crediti buttati considerando che domani escono i Future Star e magari potrebbe uscire qualche SBC sicuramente molto più interessante io il buon runei lo boccio completamente quindi raga per questo video è tutto fatemi sapere che ne pensate della nuova patch fatemi sapere che ne pensate del buon runei fatemi sapere se l'avete sbloccato mi raccomando nei commenti lasciate un bel like, iscrivetevi al canale tutte le info per le live sulla piattaforma giornaliera le trovate in descrizione quando ritornerò perché al momento se mi cercate mi hanno totalmente censurato così come accade a tutti quelli che vengono sospeso quindi niente noi ci rivediamo come al solito poi domani con un prossimo video e se Dio vuole sabato sul viola un salutone raga ciao ciao